In genere si sceglie di tornare a Sanremo, di andare a Sanremo quando sei tra le mani una canzone che reputi importante, come in questo caso abbiamo deciso di andare a Sanremo perché questa canzone mi rappresenta, è una canzone speciale per me, certo per me naturalmente, poi quello che succederà non lo sapremo mai finché il festival non è finito, ma tornare su quel palco vorrei dire che ci posso tornare più spensierata, vorrei dire più serena, vorrei dire tranquilla, mentirei. Ogni volta che si sale su quel palco, soprattutto in gara, le emozioni sono sempre le stesse, le paure sono sempre le stesse e non importa quanti anni hai, quante volte ci sei andato e se ci tornerai. Quando stai di sopra succede sempre la stessa cosa, io credo a tutti noi. Mariposas vuol dire farfalla ed è nata durante la visione di una serie che si intitolava Il grido delle farfalle, una serie bellissima, sulle sorelle Mirabal. Le sorelle Mirabal sono las Mariposas, le farfalle, le chiamavano le farfalle perché erano le più belle di tutto il loro villaggio. Erano delle attiviste politiche, si battevano contro la dittatura dell'allora generale Trujillo negli anni 60. Fecero purtroppo una brutta fine perché le trucidarono appunto, il governo le trucidò, le ammazzò e le scaraventò in un dirupo facendo passare quell'incidente come un incidente automobilistico. Ma l'opinione pubblica non ci ha creduto e tanto si indignò per la per la morte della smariposas, delle farfalle, che costrinsero il dittatore a dimettersi. Forse non tutti sanno che il 25 di novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne in onore delle sorelle Mirabal che furono uccise il 25 novembre del 1960. E allora è nata, l'idea è nata dopo la visione di questa serie ed è nata dalle sorelle Mirabal. È in onore loro che noi abbiamo chiamato, abbiamo intitolato la canzone Mariposa, ma nel resto della canzone non si innominano più le sorelle Mirabal se non in una immagine che è la farfalla che imbraccia il fucile. Ecco ci siamo immaginati appunto la delicatezza di una farfalla con un fucile in mano che volendo potrebbe essere anche riportata alle donne kurde, ma questa è un'altra storia. E diciamo che abbiamo intitolato la canzone così per questo motivo. Poi per il resto la canzone è un manifesto femminile. Racconta in ogni frase, ogni frase ha un'immagine. Si parte appunto dalla strega in cima al ruogo perché la canzone comincia così, passando per la farfalla che imbraccia il fucile e per arrivare al racconto di quello che siamo state, di quelle che siamo e di quello che saremo, spero, libere, orgogliose e cantando. Le persone che mi conoscono e vengono ai miei concerti lo sanno che io ho più sfaccettature che non sono soltanto ballad e canzoni abbastanza serie impegnate ma statiche. Chi viene ai miei concerti sa quanto a me piace anche giocare, ballare, muovermi. Forse dal grande palco di Sanremo nessuno così mi aveva mai visto. Ecco per cui questa sarà la novità di un testo importante su una musica gioiosa, ritmica, latina. Ecco questo forse sarà la sorpresa. Noi come dire dovremmo sentire questa sorrellanza no? Dico dovremmo perché purtroppo non è così. Purtroppo certe volte sui social si vedono dei messaggi feroci, più feroci di quelli degli uomini, di donne contro altre donne. Questo mi fa molto male ma ma credo che sia un dovere. Io il mio impegno, chiamiamolo impegno comunque, l'essermi, essere attenta a quel che mi circonda su quello che oggi che la società oggi vive lo sento quasi come un dovere. Ecco io ho sentito quando abbiamo organizzato una nessuna centomila, ho sentito il dovere di non fermare tutto lì. Abbiamo raccolto tanti soldi, l'abbiamo dato ai centri di violenza ma mi sembrava come un'occasione unica e sprecata. Dovevamo fare di più. Abbiamo infatti con Giulia Minoli, con Lella Costantino e Celeste, Lella Palladino e Celeste Costantino abbiamo deciso di creare una fondazione. Io sono presidente onorario per appunto cercare di portare avanti questo nostro desiderio di stare accanto alle donne e soprattutto alle donne in questo caso che sono in difficoltà. Ho gli stessi anni della RAI praticamente, per cui è un anno speciale, un anno importante. Cerco di non pensare a quel set perché un po' mi fa effetto diciamo e quando ci penso dico madonna 70 anni, però cerco di non pensarci. In realtà non me li sento affatto, la mia testa ancora gioca, ancora vuole sperimentare, ancora vuole provare, ancora si vuole divertire, ancora ha delle passioni, per cui credo che sarà un anno importante perché sicuramente lo vorrò festeggiare. Adesso come, quando abbiamo delle scadenze più impellenti che è quella di Sanremo e il 4 e 5 di maggio all'Arena di Verona appunto con una nessuna centomila. Però stiamo già cercando di organizzarci per capire che festa vorrò fare perché sicuramente è un traguardo, è un traguardo da festeggiare.